Quindi cedo adesso la parola alla dottoressa Maria Luigia Bianco che è nostra socia dell'associazione Tradizioni e Sviluppo, nutrizionista e che ci dirà anche lei qualche parola di, sicuramente non dico di conforto, ma almeno di incoraggiamento a mangiare prodotti genuini, stagionali, la cui provenienza sia certa, sperando che sia quanto più possibile del nostro territorio. Grazie. Buonasera a tutti, salve. Allora diciamo che nell'ambito comunque del discorso che è stato fatto fino ad ora sicuramente io riesco a darvi un punto di vista un pochino più sanitario perché di lavoro faccio la biologa nutrizionista e quindi l'alimentazione la guardo più da un punto di vista patologico e sanitario che non economico e di sviluppo. Sicuramente l'alimentazione ha una connessione strettissima con il benessere, tant'è vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il benessere come la salute, come una condizione di benessere sia da un punto di vista fisico che psicologico che sociale. Da questo punto di vista sicuramente l'alimentazione ha un ruolo fondamentale e dal punto di vista diciamo proprio dell'alimentazione biologica il ruolo diventa ancora più netto. È importante considerare l'alimentazione come un anello di connessione con la salute poiché si tratta di una condizione di benessere fisica innanzitutto perché una persona è in grado di rimanere senza mangiare per un periodo di tempo che non va oltre le due settimane dopodiché si crea una situazione comunque di degenerazione corporea. Si parla comunque di una condizione di benessere anche da un punto di vista psicologico perché i centri di controllo della sazietà e della fame sono connessi a livello cerebrale con i centri di controllo dell'emotività e conseguentemente lì dove si parla di cibo c'è anche una connessione emozionale e il cibo ha ovviamente una connessione diretta anche con la socialità perché da sempre a livello storico comunque c'è stata una connessione del cibo con la convivialità e l'aggregazione delle comunità. È molto importante considerare che l'alimentazione va vista da un punto di vista più curativo che non da un punto di vista essenziale quindi come qualcosa che sia solo ed esclusivamente necessaria per la sopravvivenza e Ippocrate già nel 400 avanti Cristo ci dava indicazioni in questo senso cioè ci diceva che bisognava fare del cibo la propria medicina. Ovviamente Ippocrate già anche per una questione di periodo storico in cui viveva si riferiva ad un cibo che era biologico, che era naturale, che non aveva l'aggiunta di contaminanti o comunque di molecole chimiche che andassero ad intaccare la salubrità dell'alimento e in questo senso quindi un cibo che sia biologico ha un valore effettivamente positivo sulla promozione della salute e su quella che può essere la prevenzione delle patologie. È vero che viviamo in un periodo storico che sicuramente dal punto di vista tecnologico ci pone di fronte ad una produzione che forse è un pochino più industriale e lo testimonia è il fatto che la comunità scientifica fino ad ora ha atteso a svilupparsi più sulle biotecnologie e sulla chimica alimentare quindi ad esempio gli organismi geneticamente modificati oppure la trasgenesi o ancora la clonazione, la produzione di prodotti chimici di vario genere possono intaccare questo concetto di alimentazione biologica. In realtà però diciamo che la comunità scientifica ha creato un'inversione di marcia recentemente cercando di promuovere il biologico e un'alimentazione che sia un pochino più di qualità. Tant'è vero che le scienze dell'alimentazione recentemente si sono arricchite di una nuova disciplina che si chiama la nutraceutica ed è un'unione tra la nutrizione e la farmacologia dove i vari principi nutrizionali vengono considerati più come una cura che non come l'effettiva necessità fisiologica di alimentarsi. In questo senso quindi va ad introdursi un'alimentazione biologica che viene considerata più come un farmaco per la promozione della salute e il benessere che non come un elemento fondamentale solo per la sopravvivenza. È importante considerare che comunque ad oggi la promozione dell'alimentazione biologica ci viene ovviamente anche da Expo visto che questo è l'anno in cui c'è stato Expo e lo slogan è proprio quello di nutrire il pianeta conseguentemente di promuovere uno sviluppo che sia sostenibile e che allo stesso tempo aiuti l'uomo a comprendere quali sono le necessità biologiche. Lo slogan di Expo può avere numerose chiave di lettura a me piace leggerlo in una maniera un po' diversa e considerare che con nutrire il pianeta si intenda un rapporto di reciprocità tra l'uomo e il pianeta terra dove l'uomo si impegna a rispettare il pianeta cercando di produrre in maniera più biologica nel rispetto dei cicli vitali e nel rispetto delle stagionalità e il pianeta in cambio dà la vita all'uomo e i frutti che l'uomo stesso si impegna a coltivare e a produrre. Proprio in questo settore quindi si dovrebbe andare ad inserire il Molise che ad un primo acchitto quando si parla di Molise molta gente ti chiede oddio ma dov'è il Molise? Quando si parla di Sernia qualcuno non sa neanche dov'è. In realtà questa leggera retratezza che a primo acchitto si può vedere del Molise da un punto di vista industriale potrebbe essere il punto di forza perché la non contaminazione del territorio molisano potrebbe essere il punto di partenza per uno sviluppo che sia effettivamente biologico e sostenibile. Consideriamo ad esempio il fatto che potremmo essere una terra di pastorizia e ne abbiamo parlato finora con la questione dei tratturi in Molise potrebbe crearsi una produzione sempre maggiore in termini di apicultura e miele perché insomma a Campitello si fa il miele e qui ad Agnone si fa in diversi punti per cui si potrebbe avviare un discorso un pochino più ampio oppure una produzione in termini di cereali di legumi, di tuberi perché il territorio si presta. Nel lato litoraneo si potrebbe pensare ad una produzione che sia ovviamente di natura biologica del vino oppure degli oli perché la parte diciamo costiera ha temperature e territori che si prestano un discorso però di questo tipo io penso che si possa fare soltanto se si crea effettivamente una base dall'interno cioè se sia proprio la popolazione ad essere sensibile sulla qualità dell'alimentazione e sull'importanza del biologico e del chilometro zero per cui per riuscire a cambiare bisogna innanzitutto sensibilizzare la popolazione e far capire che il consumo di prodotti che sono diciamo del territorio e che vengono prodotti in assenza di contaminanti, in assenza comunque di molecole chimiche è migliore rispetto alla produzione ovviamente industriale. Ci troviamo quindi di fronte ad un crocevia cioè scegliere se preferire un'alimentazione a base industriale, a base di allevamenti intensivi e a base di pesticidi oppure scegliere la qualità che può essere una scelta un pochino più tortuosa ma sicuramente migliore in prospettiva soprattutto perché scegliere la semplicità, la genuinità in prospettiva potrebbe creare una condizione che migliori e lo stato di salute e il benessere dell'individuo. Grazie Ringrazio la dottoressa Bianco per le parole sicuramente di contenuto scientifico oltre che salutista insomma Grazie 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 Grazie